Vittoria Beneventana al torneo Open che si è concluso sui campi del circolo tennis Isernia con 70 giocatori iscritti ad imporsi è stato il portacolori del circolo tennis 2002 Benevento, Francesco Liucci, che in finale ha superato Marco Migliorati con il punteggio di 6-4-6-3. È stata una vera e propria battaglia tra due tennisti che hanno incantato il numeroso pubblico a corso, soddisfatto a fine gara il vincitore Francesco Liucci. Stavo giocando abbastanza bene tutta la settimana e sono abbastanza felice quindi mi aspettavo questo risultato, quindi sì, sono abbastanza contento. Marco è un avversario che gioca davvero molto bene e mi dà anche molto fastidio soprattutto perché è mancino e l'avevo preparato abbastanza bene ieri questa partita perché li soffro particolarmente mancini però ho gestito davvero bene tutti i momenti importanti della partita che sono alla fine la chiave di ogni singola vittoria. Il primo set è stato il più equilibrato, Liucci con il suo gioco da fondocampo ha cercato di imporre un giusto ritmo ed è stato sempre in vantaggio sfruttando l'unico break che lo ha portato a vincere 6-4. Nel secondo set, complice qualche errore di troppo di Migliorati, si è imposto con un 6-3. Queste le parole di Migliorati a fine gara. La mia partita l'ho cercata di giocare, lui è stato bravo, è evidentemente più abituato di me a giocare su questi campi, io mi sono un po' improvvisato visto che mi capita raramente di giocare su questa superficie però comunque sia ho provato a fare il mio, quello che dovevo fare, interpretare bene la partita ma lui ha avuto più continuità di me quindi se l'hai meritato. Sono sicuramente soddisfatto, è stato un ottimo torneo sia a livello di quantità di iscritti ma soprattutto a livello di qualità, qualità di torneo perché i giocatori erano di altissimo livello, soprattutto i finalisti hanno dato vita a una bella finale. Quest'anno per la seconda volta in Montepremi da 3.000 euro? Sì, sì, quest'anno Montepremi 3.000 euro quindi Montepremi molto importante e soprattutto i giocatori di una certa categoria avevano anche l'alloggio presso la fonte della store di Castelpetruso. Gli sponsor cominciano quindi a vedere bene il tennis? Sì, sicuramente, bisogna ringraziare innanzitutto il centro Messe Gay, la fonte della store e anche il caseificio Boriati che ci hanno permesso di fare una manifestazione di questo livello. Anche il vincitore si sofferma sull'ospitalità ricevuta. Devo dire che l'ospitalità è stata fantastica sia per quanto riguarda il maestro, i campi, tutto ma soprattutto anche l'ospitalità in hotel è stata davvero molto bella, una settimana molto molto bella.